E nel nuovo Stralis Highway, il navegador sta incorporato al sistema EVE Connect in il salpicadero. Il nuovo sistema AIGO è un navegatore disegnato specialmente per camioni. Per attivarlo è sufficiente installare la tarjeta che contiene la cartografia digital. Aggi delle sue funzioni basiche, AIGO offrelle Navegazione del camion, Asistente del carri, Visualizzazione detallata di cruze e intersezione, Indicazione dei limiti di velocità e Notizia del trattaccio in tempo real. Le mapi, disponibili per 40 paesi in 30 idiomani, incluono anche 5.000 centri di assistenza AIGO. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.